Benvenuti a una nuova puntata di Volontariamo, la trasmissione che vi racconta tutto il buono di Modena e provincia. Apriamo la puntata di oggi parlando di salute e prevenzione. Sono infatti tante le associazioni del territorio attive in ambito sanitario, come la UILM, associazione che si occupa da anni di lotta alla distrofia muscolare. Che cosa fa la UILDM su Modena e che cos'è? È un'associazione che ha un livello nazionale e si occupa dei malati di distrofie muscolari, della loro qualità della vita, cerca di dare una mano rispetto a servizi aggiuntivi, rispetto a quelli sanitari, di agevolare percorsi e segue, contribuisce ai progetti regionali, assieme ai progetti regionali, alla vita indipendente delle persone, alla qualità della loro vita e a tutti i temi riguardanti l'integrazione. Ha finanziato nel 2017-18 l'avvio dell'attività di telemedicina non solo per i malati di distrofia muscolare, anche per malati di SLA e altre malattie invalidanti. Offriamo un servizio di fisioterapia aggiuntivo a quello pubblico. Su Modena abbiamo appena chiuso un convegno che però apre un lavoro ulteriore, che è quello che riguarda la definizione dei percorsi sanitari assistenziali per i malati di malattie rare, quindi delle distrofie, anche molto diverse le une dalle altre, hanno bisogno proprio di interventi personalizzati e multidisciplinari. L'associazione è molto importante nel senso che intanto ci si confronta insieme agli altri soci, alle altre persone che vivono il nostro stesso problema. Poi ad esempio in passato quando mio figlio le sue condizioni lo consentivano si frequentava l'associazione, c'erano momenti di festa, c'erano momenti di svago insieme agli altri ed era molto importante. Adesso che mio figlio si è aggravato purtroppo non possiamo tanto essere presenti perché abbiamo problemi anche di trasporto, nel senso che io non ho una macchina attrezzata perché lui è tracheostomizzato da sei anni e mezzo, per cui la gestione è abbastanza complicata. In questo caso però l'associazione mi è tanto di aiuto perché ha finanziato il progetto di telemedicina, che è un progetto molto importante perché consente la gestione a distanza, il controllo a distanza delle condizioni di salute dei malati e quindi questa è una cosa che tranquillizza molto la persona che come me assiste un figlio in queste condizioni. L'associazione avrebbe bisogno di volontari, ecco, perché noi abbiamo un pulmino bellissimo, nuovo, che abbiamo riscattato, tutto nostro, però ci sono due persone che lo guidano, una ha problemi agli occhi, l'altra persona, poi sono due persone anziani, avevamo bisogno di qualche giovane che magari si occupasse della guida del pulmino e consentisse a qualcuno di noi di essere un pochino più autonomo. Abbiamo fatto un salto a Bonporto in occasione della Fiera di San Martino per conoscere i tanti volontari che animano questa manifestazione e che in generale sono attivi tutto l'anno attraverso tante iniziative a favore della comunità. Siamo qui alla Fiera di San Martino di Bonporto la cui buona riuscita contribuiscono anche un sacco di volontari e di associazioni, giusto? Esatto, noi penso che il cuore della nostra Fiera sia prima di tutto il mondo del nostro volontariato. Quest'anno abbiamo, come vedete, siamo qua nel Palafiera che abbiamo rimesso in piedi dopo un po' di anni in cui siamo stati fermi. Questo è stato possibile ovviamente grazie al lavoro di tanti volontari. È un anno più o meno che ci siamo messi a lavorare per la costruzione e la realizzazione di questa struttura e soprattutto di tutto l'evento che viene creato dal 1 di novembre fino all'11 di novembre. Ogni serata l'obiettivo più alto era quello di avere in ogni serata, in ogni servizio, pranzo, cena, tanti volontari, anche tutti gli altri volontari delle associazioni, delle 32 associazioni che abbiamo a Bonporto iscritte all'albo e l'obiettivo è riuscito. Dal 2006, quando è nato il Borgo Buono, che grazie a un'intuizione dell'attuale sindaco Angelo Giovannini, che allora era assessore a promozione del territorio, ha invitato le associazioni di volontariato, le più numerose, presenti sul territorio che avevano come peculiarità l'inogastronomia a farsi conoscere e a proporre il prodotto che poi nelle loro feste portano come degustazione. Ci siamo iscritti al Borgo Buono con gli altri gruppi e facciamo da mangiare anche noi. Anche noi partecipiamo con la vendita delle torte a Borgo Buono e per noi è un'occasione per farci conoscere sul territorio e per fare anche qualcosa nel territorio, oltre che in parrocchia dove di solito agiamo. Questo autofinanziamento ci permette di poter finanziare in parte i nostri campi per i ragazzi e comprare le attrezzature che servono per le nostre attività con i ragazzi. Facciamo le varie under, under 12, 14, 16, 18 e queste squadre noi ci occupiamo di trovare gli spazi in palestra, di tesserarle, di organizzare i campionati. La Baracca Beach Athletic Reaver partecipa attivamente a questa fiera facendo parte del comitato fiera principalmente che da febbraio si riunisce per creare questo palafiera, per organizzarsi in minimi dettagli per riuscire ad avere questo palafiera efficiente. L'estate noi siamo protagonisti per tutto luglio dell'estate in Baracca che siamo già giunti alla nonna edizione, quest'altro anno faremo la decima. Si tratta principalmente di tornei sportivi soprattutto su sabbia, quindi creiamo campi appositi in sabbia con tornei dedicati di beach soccer e beach volley, conditi con buona cucina e degli spettacoli durante il weekend e durante il mese. Da Bonporto ci spostiamo a Formigine dove è attiva l'associazione SOS Mama al fianco di tutte le mamme per fornire supporto sia informativo che formativo sull'esperienza della gravidanza, della maternità e dell'allattamento. SOS Mama è un'associazione di volontariato che è nata nel 2001 e è attiva quindi già da tanti anni sul territorio del comune di Formigine ma anche nei comuni limitrofi, in tutto il distretto ceramico. È formata da donne, donne che hanno esperienza di maternità, di allattamento materno e che sono formate. Noi pensiamo che la formazione sia una parte fondamentale e che quindi la nostra formazione è basata sul modello OMS Unicef. Il sostegno alla pari è fondamentale e fornisce alla mamma gli strumenti per diventare consapevole delle proprie capacità. Le capacità di una mamma sono innate nell'accudimento del bambino e riconosciamo comunque il ruolo fondamentale anche del padre nel sostegno e nell'accudimento della mamma e del bambino. Noi mamme di SOS Mama mettiamo a disposizione di altre mamme, di altri genitori, parte del nostro tempo libero in maniera del tutto volontaria e gratuita per offrire sostegno alla pari. Per fare ciò usiamo una disponibilità telefonica tutti i giorni, H24, e a queste telefonate possono poi seguire, come spesso succede, degli incontri a domicilio, visite concordate con la mamma. Inoltre organizziamo incontri di informazione e condivisione presso la nostra sede a Formigine e incontri pubblici e conferenze per sensibilizzare tutta la comunità sui temi dell'allattamento e della genitorialità. Noi comprendiamo le difficoltà e le gioie di una nascita, comprendiamo le frustrazioni e comprendiamo anche il non sapere come si fa in quel momento. La solitudine è un sentimento che è presente nelle mamme, nelle famiglie dopo la nascita, ma in particolare le mamme in questa solitudine, nonostante la presenza di tante persone magari che vogliono dare consigli, si trovano in una ridda di sentimenti e di difficoltà, di frustrazioni che non permette di essere serene. Ecco, noi, stando vicino alla mamma, mettendoci in ascolto delle sue priorità, dei suoi bisogni. Siamo con lei in un percorso e un cammino verso il benessere. Ci salutiamo con il nostro calendario di appuntamenti. Fino al 22 di novembre a Formigine si terrà l'iniziativa Diamo un calcio al razzismo, progetto di inclusione sociale e sportiva per promuovere lo sport come forza trainante di integrazione. A Modena il 15 dicembre alla Casa delle Culture si terrà il laboratorio Contatto sulla gestione dei conflitti. Per info e iscrizioni entro il 5 dicembre è possibile inviare un'email a esperienza.contatto.gmail.com. Il 19 di novembre alla Galleria Europa di Modena si terrà il seminario Corpi Europei di Solidarietà per informare i giovani nel settore della educazione non formale. Per rimanere aggiornati sulle buone notizie modenesi potete consultare il sito www.volontariamo.it. Noi ci rivediamo la prossima settimana alla stessa ora sempre qui su TRC con Volontariamo.